Si chiama Rete Mela perché sintesi dei due obiettivi principali del progetto, la creazione della rete territoriale di riferimento antimelanoma a partire dallo screening fino alla chirurgia e alla ricerca multidisciplinare del singolo tumore e naturalmente la diagnosi, cure e ricerca in tempi rapidi del melanoma cutaneo. Il progetto sperimentale, primo del genere in Italia, ha in pratica il compito di prendere in carico il paziente a partire dal medico di base che diagnostica il melanoma fino alla visita ambulatoriale e dermatologica e se necessario fino all'intervento chirurgico e al trattamento diagnostico e terapeutico successivo. Quattro i livelli di intervento messi in rete e monitorati dal centro regionale specializzato per il melanoma cutaneo che in questi due mesi di settembre-ottobre ha già fatto partire una serie di incontri di formazione per i medici di base. L'incidenza di melanoma nel Veneto è al secondo posto in Italia. Noi abbiamo un'incidenza di 15-17 nuovi casi per 100.000 abitanti, circa 750 nuovi casi all'anno. Ma quello che è più preoccupante è il fatto che questa incidenza cresce del 5% all'anno. Il medico di base diventa l'attore di primo livello, un attore importantissimo, un attore che noi ci auguriamo serva ad arginare quella che è una richiesta, molte volte a sproposito, che porta via poi delle risorse preziose per cittadini o soggetti che realmente ne avrebbero bisogno. Migliorato e razionalizzato anche l'accesso alle visite e la prenotazione è possibile sia online, nel sito dell'Ulss, sia tramite il CUP e il centralino Lilt. Nello stesso tempo sarà attivato il monitoraggio sull'incidenza del melanoma nel territorio dell'Ulss 16. Saranno dedicati sia orari specifici di visita nelle strutture sanitarie, sia stanze e sale operatorie apposite e naturalmente tutta la rete verrà costantemente monitorata. Vogliamo sempre più implementare questa tecnologia in maniera tale che ci siano banche dati, in maniera tale che ci sia un collegamento vero e proprio fra medici di base, fra la rete ospedaliera del gran completo, complese le cliniche universitarie.